4.208 persone identificate, tra cui molti detenuti con permessi speciali, 72 autovetture controllate, 279 escorte e treni viaggiatori, 92 contravenzioni al codice della strada, 70 delitti in ambito ferroviario, 7 delitti in ambito extraferroviario, 8 persone in arresto, 17 denunciate e stato di libertà. Ecco i numeri del posto Polfer di Sulmona negli ultimi 5 anni, con un personale che è passato da 5 unità a 2 unità, posto Polfer che torna sullo spettro della chiusura dopo la nota del Ministero, che invita i sindacati a presentare le osservazioni entro il 20 agosto. La cancellazione del posto Polfer produrrebbe un deficit rilevante per la sicurezza delle persone, che accedono per qualsiasi motivo allo scalo ferroviario e delle cose, nonché l'ennesima punizione per il territorio della Valle Peligna, e quanto ribadisce Cristian Zerafini, consigliere regionale del COISP. La fervida volontà da parte del Governo di dare un significato sbagliato alla spendi review, nonostante le manifestazioni tenutesi a partire da marzo 2014, i moltevici incontri con Giovanni Lennini fino ad arrivare al tavolo del Governo, il vivo interesse mostrato dalle senatrici Paola Perino e Stefania Pezzopane fanno sì che in piena estate, sul posto Polfer di Sulmona, scenda nuovamente la minaccia della chiusura, come una spada di Damocle e come se si volesse cogliere, impreparate o forse in vacanza, le segreterie sindacali. Non capiamo davvero come segreteria COISP quale delle numerose valutazioni fatte, scritte e documentate, non siano ancora troppo chiare al Governo, tuona Serafini. Il Consiglio regionale del COISP fa notare che la Polfer, secondo scala in Abruzzo dopo Pescara, agisce sulle linee ferroviarie con Roma-L'Aquila, Pescara, Terni, Serni e Napoli e l'unica sala operativa regionale ha un volume di traffico di 65 treni in servizio giornaliero, con deposito di rame, con parcheggio per oltre 400 autovetture e circa 200 dipendenti. La COISP chiede, risposta a un'accelerata chiusura di posti di polizia, di valutare effettivamente il reale stato di necessità che ha l'intero indotto ferroviario di Sulmona, manifestando oltre che proprio di senso la carenza del personale, che non può continuare a svolgere le seguenti mansioni con soli due operatori. La chiusura di tale presidio sarebbe rilevante in termini di risparmio, in quanto, personale escluso, le spese di gestione, riscaldamento di energia elettrica, servizio di polizia, manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico delle ferrovie dello Stato.